Ciao a tutti dal Salutatore, grandissima sorpresa, eccoci qui nel prestigioso Club del Distancio che oggi compie 50 anni e qui abbiamo Re Leone. Auguri, auguri a tutti. Ecco, facciamo un super saluto a tutti i tifosi del compleanno. E buon compleanno e ti meriti la manina del Salutatore giallorossa, a mezione. Ciao!